Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo un grande classico del calcio mondiale. Questa è la prima maglia del Real Madrid, in edizione player, quella più tecnica, pensate per i calciatori, ovviamente a manica lunga. Questa è la prima maglia del Real Madrid. La maglia del Real Madrid, la prima di quest'anno, penso che sia la quarta, quinta che vedo. Questa è però la prima maniche lunghe, è un po' che prendo maniche lunghe per provare come erano e devo dire che sono rimasto felicemente sorpreso e impressionato. Il costo, lo vedete qui sopra, molto basso per una maglia che potete portare anche quando fa un pochino più freddo. Se volete maggiori dettagli, trovate i riferimenti qua sotto, in descrizione. Sempre in descrizione andate a vedere perché c'è un link per ottenere un coupon che potete utilizzare sul sito per avere uno sconto. Vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Prima però, se volete vedere tutti i giorni recensioni di maglie belle come questa, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Per oggi è tutto, alla prossima! Per oggi è tutto, alla prossima!